Partiti cavalli dell'edizione 2013 del premio Piero e Franco Richard con Irish Boy deciso nell'assumere l'iniziativa. Irish Boy va davanti a fare l'andatura. Alle sue spalle prende posto lo zoccolo duro con la scia All About Cossio. Subito dietro a questo c'è Ciro Vincenti, poi Puma Dureu davanti a Serica e Babawi. Queste le posizioni dei cavalli al completamento dell'arco della curva e una volta superato il sepone verranno adesso ad affrontare il salto della fence. Tutti piuttosto bene sulla fence, ora i cavalli sotto la tribuna affrontano il salto della riviera. Col gruppo che viene al completamento del rettilineo, Irish Boy mantiene la posizione e conduce nei confronti di All About Cossio. Dietro a questi c'è sempre lo zoccolo duro, quarto c'è Ciro Vincenti, poi Puma Dureu davanti a Babawi e Serica. Così i cavalli per affrontare un primo passaggio del salto del doppio travone. Dopo il quale il gruppo viene sulla diagonale, Irish Boy sempre leader, quando il gruppo viene ad affrontare il salto del terrapieno. Secondo è All About Cossio, terzo Ciro Vincenti, poi Puma Dureu con i cavalli che affrontano adesso l'Oxer. Tutto fluido anche sulla diagonale, Irish Boy mantiene sempre viva l'andatura. Irish Boy conduce sempre davanti ad All About Cossio che è accompagnato da Ciro Vincenti, quarto Puma Dureu con nella scia Serica, poi ancora Babawi e lo zoccolo duro. Sono queste le posizioni dai cavalli a tre quarti della curva, con i cavalli che si indirizzano al salto dell'Arginello piccolo. Irish Boy sempre all'evidenza nei confronti di All About Cossio. Ciro Vincenti segue questo da vicino, Puma Dureu è quarto, quinto è Serica, poi Babawi leggermente più indietro segue lo zoccolo duro. I cavalli che vengono adesso ad affrontare di scendere la diagonale con il salto del muro. Ha dovuto fermare in coda purtroppo lo zoccolo duro. I cavalli affrontano adesso il salto del Talus. deve fermare anche Serica sulla diagonale del Talus e così si presentano in cinque sotto le tribune. Sempre in vantaggio Irish Boy nei confronti di All About Cossio, quindi Ciro Vincenti, Puma Dureu e Babawi. I cinque cavalli sulla curva di Marlengo, tre quarti della piegata, con Irish Boy che si mantiene sempre all'evidenza anche all'uscita dalla curva. cavalli che vanno ad affrontare il salto del doppio travone all'attacco del rettilineo opposto. Irish Boy è avvicinato da All About Cossio e Puma Dureu. Quarto a ridosso, c'è subito Ciro Vincenti, quindi Babawi, così per affrontare il muro di metà rettilineo. È caduto Babawi sul muro di metà rettilineo, tre quarti della retta. Irish Boy si mantiene ancora in vantaggio prima del verticale. Irish Boy su All About Cossio, Ciro Vincenti e Puma Dureu sono in quattro. Adesso a contendersi Richard, cavalli che affrontano la curva conclusiva. Irish Boy prova a respingere All About Cossio e Ciro Vincenti. I tre sono molto vicini, hanno distanziato invece Puma Dureu. Arginello grande con All About Cossio che muove all'attacco. All About Cossio passa all'evidenza nei confronti di Ciro Vincenti e ancora Irish Boy. Ultimo tratto della curva, All About Cossio su Irish Boy. Ciro Vincenti per il momento è subito dietro a questi. Ultima finale con All About Cossio che accelera. Incertezza grave per All About Cossio che cade sul Richard. E allora è Ciro Vincenti che viene all'interno di Irish Boy. Ciro Vincenti, Irish Boy, inaspettatamente la lotta è serrata. Irish Boy e Ciro Vincenti, testa a testa, fino in fondo. Irish Boy, Irish Boy vince Richard. Irish Boy con Rick Chazelle. Irish Boy. L'arrivo del premio Piero Franco Richard, un'emozione dietro l'altra con Irish Boy, l'importato dalla Francia che rientra completamente a Ciro Vincenti. Un'incollatura sul paro Irish Boy, Hervant Chazelle per Monsieur Richard Chautard, i colori del signor Mario Montanari. Questo è il verdetto del premio Piero Franco Richard 2013. Ciro Vincenti si adegua al secondo, ma All About Cossio è caduto sull'ultima quando era ormai avviato al successo.